Abbiamo la nostra tazza di espresso pronta per essere degustata. Ricordiamoci sempre di chiudere il nostro caffè, metterlo in un luogo fresco e asciutto per evitare l'ossidazione. E andiamo ad assaggiare l'espresso. Quando noi abbiamo un espresso fatto bene, la crema in superficie deve essere bella di color nocciola, ma soprattutto un controllo che potete fare con un cucchiaino è di girarla e deve essere elastica. Si deve richiudere. Questo vi dice che è stato estratto bene.